ciao a tutti iknos tra pochi giorni intraprenderemo un viaggio attraverso alcuni posti stupendi della nostra terra alcuni conosciuti e altri meno insieme al nostro amico sky vivremo questa avventura mettendoci alla prova trabosa alghero tempio olbia l'area archeologica del monte tiscali il golgo e per concludere con la costa sud orientale dell'isola dieci giorni intensi e pieni di tantissime novità che ci daranno la carica e le ispirazioni per i viaggi che verranno quindi amici a sibiri o meglio arrivederci ciao ciao Grazie.